Avrebbe voluto essere qui oggi insieme a noi il Presidente della Fondazione, Dottor Ottaviani, però all'ultimo momento non ha potuto e quindi mi ha delegato a rappresentarlo. Per cui innanzitutto io porto il saluto di tutta la Fondazione, di tutti i suoi organi e dei soci. A tutti voi, Vesco, il Sindaco, le autorità, la Presidente onoraria, la Presidente attuale e tutti i frequentanti di questa Università. Ma qual è il compito della Fondazione Califac, una fondazione bancaria? È quello di sostenere il territorio. Sostenerlo attraverso la promozione di progetti in collaborazione con le istituzioni e con il territorio. È quello di sostenere erogando anche dei contributi a coloro che nel territorio operano in maniera strategica proprio per il suo bene. Ecco il perché questo sostegno a questa Università, a cui io voglio molto bene perché sono stata compagna di viaggio per lunghi anni e spero di continuare ad esserlo. Perché questa Università è non soltanto un luogo in cui si rafforzano, si creano e si rafforzano le relazioni e anche questo con una valenza, lo ricordava il Sindaco, sociale e forse, ma è anche un luogo in cui si acquisiscono sempre nuove conoscenze, si fa cultura e soprattutto si opera per la formazione continua e permanente. Che è cosa importante, forse spesso non ci si riflette abbastanza, ma è forse la via strategica per poter vivere in una società complessa e in continuo divenire.